Diciamo che volevamo togliere al nostro presidente qualche preoccupazione visto che dice di essere sempre molto preoccupato. Avevamo il doppio obiettivo ovviamente vincere e far valere la nostra difesa che ultimamente era un po' mancata perché 20 gol in un tempo contro con Versano, altri 30 gol nel totale erano pesanti, quindi cercavamo di mantenere sotto i 20 gol, volevamo e ci siamo riusciti, siamo contenti. Poi in attacco un po' più di velocità adesso con la straniera stiamo cercando di consagni, stiamo cercando di trovare l'equilibrio giusto e sta andando meglio, sempre meglio. Ogni partita riusciamo a essere più compatte e siamo in gara come vogliamo ovviamente entrare nei playoff, abbiamo fatto già qualche passo falso e non ce ne possiamo permettere altri. Diciamo che Cassano è una squadra sicuramente più esperta di noi, ha giocato sicuramente meglio per 60 minuti mentre noi purtroppo abbiamo tenuto solo per 20. Dopo abbiamo mollato, la differenza tecnica si è vista, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, purtroppo è andata nel peggior dei modi, 38-18 è forse un risultato un po' bugiardo, meritavamo di perdere con meno scarto. È un po' difficile nel senso che c'è tanta differenza d'età, pian piano stiamo cercando di trovare il giusto ritmo, la giusta strada per cercare di trovarci in campo perché ci sono due stili di giochi diversi, l'età è differente e sicuramente come anno ci servirà per fare esperienza e andrà meglio il prossimo anno. L'obiettivo ovviamente è la permanenza in Serie A? Sicuramente, fino adesso siamo in ottica con i risultati prefissati inizio stagione e va bene così. Ciao!